Ciao da Apsim, come guardare la Serie A, la Champions League e le altre competizioni europee e anche gli altri campionati nazionali, le altre competizioni più importanti del calcio 24-25 legalmente pagando ma senza abbonarsi a Dazon e senza neanche abbonarsi a Sky. Soprattutto come guardare la Serie A legalmente pagando, risparmiando ovviamente, senza abbonarsi a Dazon. C'è chi non vuole dare un euro a Dazon pur di spendere la stessa cifra che dovrebbe dare a Dazon perché non gli piace Dazon, scelta legittima, c'è chi non vuole pagare Dazon perché Dazon costa troppo. Non so qui a parlare delle cifre, Dazon, piani di abbonamento, anche un po' una mancanza di rispetto dal mio punto di vista nei confronti degli utenti, ti mettono dei prezzi esorbitanti e poi ti dicono che se gli dai tutti i soldi immediatamente risparmi il 30-40-50% o quello che sia. Chiaramente i prezzi li fate voi, quindi anche il risparmio, quindi è semplicemente un modo per attirare clientela anche con, in alcuni casi, accordi con altre piattaforme. Ne abbiamo parlato, quello che vi ho detto infatti in un precedente video in cui preannunciavo che poi avrei fatto questa guida a disposizione di tutti, questo tutorial a disposizione di tutti, quindi di tutti voi senza necessariamente abbonarvi al canale, era proprio che va bene, abbonatevi a Dazon se volete, ovviamente siete perfettamente liberi e non dovete neanche chiedere il permesso, ma cercate di evitare di farlo nell'ambito di quelle collaborazioni con determinati media, perché il punto è che Dazon con le collaborazioni con altri media, quotidiani e giornali in particolare, ha ottenuto una narrazione a suo favore sui principali media, così tante situazioni non ci vengono raccontate, per esempio i licenziamenti e lo stato di agitazione di molti giornalisti, e quindi sembra che Dazon vado tutto bene, tutto perfetto, tutto bellissimo, a danno nostro, a danno dell'utenza che ha una percezione distorta e così è portata maggiormente ad abbonarsi e quindi praticamente diventa un circolo vizioso che si autoalimenta. Non lo alimentiamo, dopodiché ognuno si abbona a quel che vuole, ma per chi non vuole seguire nessuna strada illegale, è disposto a spendere legalmente ma non vuole pagare Dazon in Italia, per guardare in particolare la serie A, ma abbinando anche altro, quindi andando a risparmiare pure sulle cose che si riescono a vedere, come si può fare? Eccoci con la guida definitiva. In descrizione vi metto uno per uno in elenco i link, tutti i link pochi, i pochi link da seguire per andare a fare la vostra scelta, perché io non vi dirò in questo video esattamente come fare, cioè qual è un'ipotesi dal punto zero al punto quello che sia, ma cosa fare per andare a trovare la vostra strada, perché i paesi sono tantissimi, i paesi sono decine di paesi in cui ci si può andare ad abbonare virtualmente dall'Italia, comunque dall'Italia, per guardare quello che si vuole, poi ognuno sceglie quello che vuole perché c'è chi vuole spendere proprio poco, poco, pochissimo, allora magari non guarda tutte le partite di serie A, perché bisogna anche vedere che non tutti i paesi hanno acquistato i diritti per 380 partite, oppure le guarda tutte ma c'è un po' di ritardo nello streaming, oppure non è disponibile l'app e quindi deve andare per forza da browser, certo è comunque tutto in streaming, è comunque tutto in streaming tramite internet, perché non è possibile la ricezione ovviamente tramite antenna, satellite o quello che sia, quindi ognuno poi fa la sua scelta da questo punto di vista, ma ci sono delle barriere di cui abbiamo già parlato. Una di queste barriere ovviamente è il geoblocking, altrimenti non ci sarei neanche qui a parlare e non stareste qui ad ascoltare, non avreste la necessità e comunque grazie per la fiducia, la pazienza e l'attenzione. Il geoblocking dice che fondamentalmente dall'Italia puoi acquistare prodotti e servizi di qualunque tipo all'estero, di qualunque tipo, in alcuni casi anche possiamo dire prodotti multimediali, come possono essere libri, cd, cd anche chi ancora ovviamente li acquista come magari vinile, destinati al mercato estero, si trova il modo di acquistare tranquillamente, nessuno ti dice, in alcuni casi dice non spediamo nel certo paese, ma normalmente si riesce a fare, anche tramite i normali marketplace, tranne per alcune cose, tra cui in particolare il servizio di streaming di sport, di streaming e quindi di eventi sportivi, e in particolare il calcio. Quindi per quelle cose devi stare per forza nel posto, devi risiedere o trovarti nel posto in cui vuoi guardare, da cui vuoi guardare quel contenuto in cui viene trasmesso tramite un determinato broadcaster. Quindi se vuoi abbonarti ad un servizio che trasmette la serie A in Germania, devi stare in Germania. Per superare questo geoblocking, che è uno delle barriere, si utilizza la VPN, quindi cominciamo con la VPN che è il primissimo passo, virtual private network, che tutti sapete è legalissimo, ci sono le VPN gratis ma non offrono assolutamente le garanzie minime di funzionamento per quello che ci serve in questo caso. Quindi è un servizio a pagamento ma costa pochi euro al mese, 2-3 massimo, 5 euro al mese a seconda del piano che volete sottoscrivere a scelta vostra. L'altra barriera però, la vediamo dopo, superata la VPN potrebbero esserci anche in fase di abbonamento dei problemi legati all'identificazione, diciamo. Cioè dovete avere per forza un numero di telefono locale del paese dove vi abbonate oppure un indirizzo fisico. Dove c'è l'indirizzo fisico? Lo dico adesso, fate una ricerca specifica se vi serve ma non so darvi istruzioni. Quindi scegliete un broadcaster di un paese, che ne so, l'Albania, vi chiede di avere una residenza in Albania, cercate sistemi legali su internet che ce ne sono forse per indicare un indirizzo, tra virgolette, virtuale. Per indicare un indirizzo virtuale. Tanto basta indicarlo solo in sede di registrazione, comunque, in maniera veritiera, io vi consiglio sempre di leggere tutte le condizioni generali perché da rispettare anche i contratti, da non dichiarare cose false, ovviamente, ma sta a voi, fate le vostre valutazioni. Quindi fate attenzione, non posso dirvi tutto su questo perché non so tutto di quelle che sono le condizioni dei vari posti. E queste sono le limitazioni, queste sono diciamo le barriere, superata la prima con la VPN, poi andiamo a vedere come si fa per quanto riguarda il numero di telefono. E in ultima istanza, in alcuni casi, come si fa per il pagamento, perché in alcuni casi anche per il pagamento può essere richiesta una carta o un conto locale, quindi il classico IBAN, che invece di iniziare per IT, deve iniziare con le due iniziali del paese dove vi andate ad abbonare. Cominciamo con la VPN. Le VPN basta cercare, le conoscete, ma io vi consiglio di andare su GoSplit e vi lascio il primo link in descrizione. Ovviamente è un link referral, quindi io sono affiliato, quindi ci guadagno qualcosa, lo dico chiaramente, ma credo nel servizio GoSplit e lo utilizzo anche io e vi spiego anche la differenza. Da questa schermata infatti vi faccio vedere attualmente in questo momento quali sono i prezzi per le varie VPN che ci sono. E ci sono veramente le più utilizzate, quindi CyberGhost, NordVPN, Express, Surfshark, eccetera, più altri servizi. Innanzitutto come funziona GoSplit? Funziona che ci si abbona, un utente si abbona al servizio normale, quindi nello specifico parliamo di NordVPN, ci si abbona a NordVPN e si utilizza la multiutenza. Cioè su GoSplit trovate anche tanti altri servizi per qualsiasi altra cosa che non c'entra con quello che stiamo dicendo. In alcuni casi anche lo stesso DAZON trovate, per esempio, ma vi faccio vedere che comunque andate a spendere molto di più di quello che potete spendere con questo sistema e quindi per quanto riguarda DAZON nello specifico comunque non conviene e sono pur sempre soldi a DAZON. Poi chi appunto decide di sottoscrivere, di anticipare l'abbonamento, mette a disposizione l'abbonamento, cioè le utenze extra, mantiene la propria utenza. Quante ce ne sono per altri dispositivi contestualmente? Sei? Ok, quindi ne ho sette totali. Una resta a me, gli altri slot li metto a disposizione caricando su GoSplit il mio abbonamento. Cosa ci guadagno? Ci guadagno che i vari utenti che io non conosco e non sono tenuto a conoscere, altrimenti dovrei andarli a cercare uno per uno e che possono venire da qualsiasi paese, tramite un sistema comunque che garantisce l'attendibilità dell'utente, un sistema di GoSplit, possono scegliere lo slot, pagano e mi arriva una parte di rimborso. Quindi praticamente io ho comunque lo stesso abbonamento pagando meno. Sfruttando, quindi praticamente sto andando a sub-affittare, a vendere in pratica la multiutenza, le altre utenze. È una cosa che si può tranquillamente fare, è assolutamente legale, in alcuni casi può essere, ma non lo è definitivamente, in conflitto con le condizioni contrattuali del servizio, nello specifico NordVPN, andatele comunque a controllare, ma in realtà non c'è un vero e proprio conflitto perché tu nel momento in cui paghi e hai la multiutenza, tu puoi tranquillamente utilizzare, nello specifico, NordVPN sul telefono tuo e sul telefono di un familiare o sul dispositivo di un amico ed è la stessa cosa, e magari glielo fai fare gratis, è la stessa cosa che lo vai a vendere, è uguale, quindi non c'è questa limitazione. Quindi, qual è il vantaggio però? Perché giustamente qualcuno mi potrebbe dire, ma guarda che se io mi abbono sul sito a NordVPN, rispetto a 2,65€ al mese che mi costa su GoSplit, più o meno siamo lì. Perché devo fare su GoSplit? Semplice, se volete abbonarvi, diciamo, come titolari di abbonamento, allora fate l'abbonamento dove vi pare, come VPN, e spendete quello che volete spendere. Poi, se volete, sfruttate la multiutenza e gli slot vuoti che non utilizzereste, mettendolo a disposizione su GoSplit per recuperare qualcosa. Ma, se vi abbonate su NordVPN o quello che sia, pagate tutto subito, pagate tutto adesso. Mentre su GoSplit, quanto costa? 2,65€ al mese? Per il momento pagate 2,65€. Poi il mese prossimo altri 2,65€. Su, nei vari servizi di VPN, vi dicono, paga tutto adesso, che poi equivale a, ma equivale a mensile, ma tu intanto lo stai pagando tutto adesso. Quindi il vantaggio, netto e evidente su GoSplit, è questo, di pagare mese per mese più o meno la stessa cifra, anche qualcosa in meno in alcuni casi, ma soprattutto, mese per mese, se sfruttate gli slot messi a disposizione dagli utenti che hanno già caricato il loro abbonamento. Segmento VPN esaurito, questo, quindi scegliete la VPN che preferite, anzi, aggiungo un paio di cose in realtà. Tra le varie VPN che andate a scegliere, intanto vi suggerisco di scegliere quelli che hanno, ma, insomma, per un mio suggerimento, di scegliere le VPN che hanno la politica no log, che è un pochino più sicura rispetto alla privacy. Per una questione, cioè, no log significa che i server della VPN non tracciano nulla del vostro traffico, non memorizzano il traffico, vi fanno smistare il traffico, ma dicono di non trattenere nulla, e questo può essere una garanzia. Ma un altro aspetto potrebbe essere, potrebbe essere, e lo vediamo dopo, l'assegnazione dell'IP unico, perché che cosa può succedere con il sistema della VPN, al di là di GoSplit, con la VPN per quanto riguarda questi servizi di streaming, che magari riesci tramite la VPN ad abbonarti, dopo però quando vai a visionare il contenuto ti dice, tu stai usando una VPN e non te lo facciamo vedere, perché gli indirizzi IP delle VPN sono tutti stracciati, ovviamente, non è che si fanno fregare questi. Non sempre, in alcuni casi, anzi in molti casi, devo dire, per quello che ho potuto leggere e provare, anche in passato, non c'è questo problema. Però ci sono delle VPN che danno anche l'IP unico, e quindi quell'IP non lo bloccano. Per cui voi potete andare, per esempio, su Paramount+, negli Stati Uniti, con la VPN in cui vi collegate virtualmente negli Stati Uniti, con l'IP unico degli Stati Uniti, e non ci sono problemi. Fate solo attenzione a una cosa, che gli IP unici non sono disponibili per tutti i paesi. Quindi andate sulla VPN, vedete chi vi dà l'IP unico, vedete per quali paesi, e poi nell'ambito di quei paesi fate il passaggio successivo che vi dico adesso, di andare a vedere quali sono i broadcaster. E quindi, esaurito il segmento VPN, andiamo a vedere quali sono i broadcaster. Dal secondo e dal terzo link, nella descrizione, potete andare prima, dal secondo link, all'elenco su Wikipedia, dei UEFA Champions League Broadcasters 2024-2027, quello che sia. Quindi a partire da questa prossima stagione. Dal terzo link, invece, trovate una vecchia pagina del sito della Serie A, relativa purtroppo al momento solo al periodo 21-24, per quanto riguarda i broadcaster, con una bella mappa da poter visionare per andare proprio a cercare il paese che vi interessa. E ve rigirate tutti. Serve un po' di tempo e di pazienza, eh? Serve un po' di tempo e di pazienza. Quello che vi suggerisco di fare è questo, di vedere quelli che sono i broadcaster della Champions League, poi se volete trovate l'elenco anche dell'Europa League, se in particolare vi interessa, e di fare un matching. Magari prendete un foglio, fate una nota per trascrivere mentre navigate, per selezionare un po' i paesi e vedere quali broadcaster coincidono. Fate solo attenzione al fatto che a volte nell'elenco il broadcaster viene indicato come azienda e non come canale. Però poi potete andare a cercare e soprattutto sul sito della Lega Serie A con i broadcaster vi basta cliccare e vi rimanda già proprio al sito di chi trasmette, che non sempre, diciamo, corrisponde. Ora, per quanto riguarda la Serie A, non abbiamo ancora, perché c'è un cambiamento, c'è un cambio di triennio praticamente, non abbiamo ancora precisamente i broadcaster per questo prossimo periodo, ma sono quasi tutti stati confermati, hanno quasi tutti confermato. Comunque, nel momento in cui voi individuate il paese dove volete abbonarvi, andate sul sito del broadcaster e vedete che cosa vi propone. Ovviamente per la navigazione, oltre ad utilizzare la VPN, vi basta tradurre la pagina, se non vi è comprensibile, con gli strumenti, con le estensioni del browser e vi rendete conto, soprattutto se offrono le 380 partite di Serie A. O volete rischiare che magari quella singola partita non la riuscite a guardare, perché non le coprono tutte quante. Sebbene, quando non le coprono tutte, le big sono sempre comunque trasmesse. Le partite delle big dovrebbero esserci tutte. E poi appunto vedete quale broadcaster vi trasmette sia la Serie A che la Champions League e magari anche Europa League, Conference League e altri campionati, come c'è in alcuni casi. E vi conviene poi abbonarvi a quello, perché con un unico abbonamento fate praticamente tutto. Dopodiché, in realtà, avete finito, perché poi quando vi serve di guardare, sempre da browser, quindi difficilmente da dispositivo mobile, diciamo di sì, ma sempre tramite browser, mentre per quanto riguarda le varie smart tv diventa difficile, dovete sempre fare da browser, quindi sostanzialmente da un computer, vi collegate con la VPN in quel paese, fate login sul servizio di streaming, vi siete abbonati per un anno quello che avete voluto fare e guardate, avete diritto a guardare. Con qualità più o meno, con il commento in una lingua piuttosto che un'altra, quello poi vi basta sostanzialmente guardare la partita. Il problema, una volta trovato il paese dove vi volete abbonare, ovviamente il broadcaster che vi interessa e poi di conseguenza il paese, quindi poi magari ritornate un attimo indietro a controllare se la VPN che volete scegliere vi garantisce la copertura con il server in un determinato paese, perché le VPN non hanno server dappertutto e c'è una bella differenza, c'è il problema di abbonarsi. E allora, la cosa interessante che vi propongo, potete anche fare un'ulteriore ricerca, ma vi lascio già il link, quindi il quarto link è come fare quando vi chiedono un numero di telefono locale. Bene, c'è un sito, vi lascio appunto il link, che si chiama sonetel.com, sostanzialmente un virtual phone number, ma potete anche cercare, io vi consiglio sonetel.com perché ci sono anche i prezzi, non sono affiliato, ci sono però anche i prezzi e sono assolutamente abbortabili, vediamo pochissimi euro, cioè pochissimi euro, anche meno di due, però potete semplicemente cercare su Google buy phone number o virtual phone number e vi dà tante soluzioni, ce ne sono tanti, ovviamente con offerte diverse, con prezzi diversi. Che cosa consiste? Diciamo che sono dei servizi aziendali, rivolti alle aziende, ma anche a libri privati che comunque hanno bisogno, magari per motivi commerciali, di avere un numero di telefono virtuale, locale, cioè fisso, fisso in un determinato paese o in tanti paesi con poi il trasferimento di chiamata per motivi commerciali, quindi è un servizio assolutamente legale, solo che lo andiamo a utilizzare per un altro scopo, ma va bene lo stesso, cioè su questo sito sonetel.com potete acquistare un numero di telefono fisso, locale, del paese che vi interessa. Quanto costa? Anche un paio di dollari alla fine, perché un mese, un paio di dollari al mese, al mese, però in effetti vi basta un mese, perché nel momento in cui voi acquistate il numero di telefono e lo associate a quell'account e vi abbonate per quel broadcaster per un anno, non è che vi vengono a telefonare o a chiedere la conferma del numero di telefono, non dovrebbero, l'importante è che sia valido in quel momento e bypassate questa cosa. Se poi il broadcaster, ripeto, non vi chiede solo il numero di telefono o al posto del numero di telefono vi chiede anche un indirizzo fisico locale, io non vi so aiutare. Lì ci areniamo, però sono pochi, sono pochi quelli che vi chiedono di risiedere in particolare. In alcuni casi basta nome, cognome, indirizzo email e numero di telefono locale, perché se è un numero di telefono fisso si intende che e quindi vai a dare. Ovviamente non ho potuto fare test per tutti, quindi potrebbe anche succedere che mettete il numero dopo che l'avete comprato e non funziona e qui insomma è anche una questione di fortuna, però provateci. Avete speso nel frattempo quanto? 2-3 euro tramite GoSplit per la VPN, un paio di euro per il numero di telefono per un solo mese, per una sola volta, quindi per il primo mese state, quanto state? Sui 5 euro, esageratamente, benissimo, dopodiché vi andate ad abbonare e in alcuni casi con 15 euro, con il corrispettivo di 15 euro al cambio, al mese, guardate tutto, guardate tutto, poi vedete ci sono anche tutto quello che interessa, naturalmente c'è i principali campionati serie A, però magari c'è anche Premier League, c'è Bundesliga, c'è la Champions League e a volte ci sono anche Conference ed Europa League, cioè veramente guardate tutto, è veramente full, dopo che avete guardato e riguardato, magari controllate bene, quelli che sono i broadcaster e la completezza praticamente della loro offerta. Altra questione che si potrebbe verificare, come ho già detto, è comunque il successivo blocco dell'IP e per quello eventualmente si può correggere qualcosa in fase di VPN, però appunto voi fate un test adesso che è luglio e comunque ci sono anche delle partite, per esempio i playoff per la UEFA e con un solo mese di VPN tramite GoSplit mal che vada avete speso un mese, dopodiché vi abbonate per conto vostro alla VPN perché tramite GoSplit magari non c'è questa caratteristica dell'IP unico, vi comprate l'IP unico che costa qualche euro in più, sostanzialmente andate a spendere poco più di 5 euro al mese, dovrebbe essere 5-6 euro al mese per la VPN, avete l'IP unico e siete a posto e non vi possono bloccare. Qual è però l'ulteriore problema che si può verificare? Quello del pagamento. se vi chiedono una carta di pagamento locale come si fa? Per esempio per quanto riguarda Paramount Plus che è la soluzione forse migliore, cioè VPN abbonamento a Paramount Plus e appunto guardi praticamente tutto e come si fa a pagare? Ci sono e anche qui vi basta cercare il nome del servizio e cercare su Google prepaid 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 o prepaid card e ci sono in particolare sul sito ultimo link che vi metto g2a.com e questo è risaputo perché ci sono tante guide online le carte prepagate quindi comprate il credito e pagate con la carta ci sono anche alcune guide se cercate appunto abbonarsi Paramount carta prepagata trovate alcune guide che spiegano tra l'altro che nel momento dell'abbonamento non dovete scegliere il piano ma dovete scegliere proprio di inserire la carta prepagata e dopo inserita la carta prepagata potete scegliere il piano di abbonamento ovviamente la carta prepagata vi copre quelli che sono i costi magari di un mese o un paio di mesi poi ci ha dato a mettere le altre tanto i soldi sono sempre quelli o li spendete con la carta prepagata o li spendete con direttamente pagando dove possibile con una carta magari che avete con un metodo di pagamento italiano che avete se ve lo fa fare il costo alla fine è quello che conta e come potete vedere proprio esagerando esagerando in molti casi con 20 euro al mese legalmente con pochi passaggi da fare una volta in un anno una volta in un anno guardate tutto quello che vi pare dopodiché mettete la vpn che tra l'altro come ben sapete si può utilizzare anche come estensione del browser quindi potete evitare di condizionare tutta la rete diciamo tutto il dispositivo potete scegliere un browser specifico per guardare le partite e ci mettete l'estensione con la vpn e solo quello vi va praticamente su quel flusso quindi tramite vpn sugli altri browser che magari state utilizzando in contemporaneo non ci va così come il resto della rete degli altri dispositivi domestici vi basta fare questo switch ogni volta di andare sulla vpn vi collegate e guardate tutto e così non abbiamo dato un euro ad asone rimanendo assolutamente nella legge nella soddisfazione e nel rispetto di noi stessi facendo ognuno quello che gli pare ognuno quello che vuole ma per avere appunto massima soddisfazione nel guardare il calcio grazie per la vostra attenzione la guida è completa quindi ognuno poi scelga fate voi il percorso io avrei potuto proporvi anche 20 soluzioni già confezionate però poi poteva essere dispersivo perché a qualcuno magari non interessa uno piuttosto che un'altra e ci sono tante differenze ci sono tantissime esigenze quindi mi fermo a questo non aggiungerò altro perché la guida completa e definitiva è questa vi ho dato gli strumenti vi ho dato gli strumenti eravate in grado in molti casi anche di assolutamente di trovarveli da soli ma ho provato a fare del mio meglio per essere utile in questo senso e perdeteci un po' di tempo dedicate un po' di tempo magari qualche ora un pomeriggio o una sera quando vi va per trovare il servizio a cui abbonarvi dopodiché tra poche settimane pochi giorni siamo pronti per la ripresa dei campionati in particolare della serie A grazie della vostra attenzione condividete il video se lo ritenete interessante seguitemi da tutti i link in descrizione per gli altri miei canali youtube e anche per spotify dove pure viene trasmesso questo video per poterlo ascoltare anche solo ascoltare oltre che guardare ci vediamo molto presto e per il calcio voglio un allenatore